assaggiate ha il sapore di sono estasiato è stato un solo piccolo assaggio non può fare alcun male intenso come il vento del nord dobbiamo resiste piccante come il desiderio posso proporle dei capezzoli di venere irresistibile dal primo assaggio un piacere da gustare con gli occhi per risvegliare la passione per top of the week cioccolà stasera alle 21 e 10 su paramount channel grazie